Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sempre con la tipa strana che ci ha fatto morire dopo il secondo episodio di quella serie Che doveva essere una serie che inizialmente doveva continuare Poi siamo morti nella lava perché qualcuno ha deciso di rompere roba Si non venire addosso a me, lo so che stai venendo addosso a me perché boh ti senti in colpa Oddio c'è un coso che brucia Cosa? Ah uno zombie, un coso che brucia, va bene Allora gli ho fatto cambiare il microfono quindi dovrebbe sentirsi anche meglio, vero? Prova a parlare Adesso la mia voce è più sensuale Sì, sì, vabbè A parte questo, come vi avevo promesso ragazzi, gli ho fatto installare i Lucky Block Infatti abbiamo preso la moda di Lucky Block e abbiamo preso questa mappa carina Che in realtà è una mappa di una città gigantesca che non, per lo più non si può tipo entrare in nessun posto Che ho costruito io Sì, ha costruito lei tutto in una notte perché non c'è niente da fare in sostanza In una notte che cosa Esatto Due ore Perfetto, giusto, scusami Ok E abbiamo qui quattro, cioè abbiamo quindici Lucky Block Cinque di ogni tipo Quelli Lucky Block normali, abbiamo quelli veri Lucky Block e le Lucky Lucky Block Un'altra cosa dobbiamo fare è tipo la game rule che devo attivare subito Che ci permette di non perdere roba Ok, quindi abbiamo messo anche Lucky P Inventory E abbiamo quindi la possibilità di iniziare Allora, come funziona questa sfida di Lucky Block? Che te lo dico anche a te, penso che tu non lo sai come funziona Ci separiamo in strade diverse, scegli tu dove andare, non piazzare i blocchi ancora, ferma Prime regole Uno, non fare la stupida e non piazzare i blocchi per terra, non fin quando te lo dico io Dimmi sì signore E no signore Stronza A parte questo, devi andare in qualsiasi strada vuoi tu E appena finirai i tuoi Lucky Block devi piazzarli tutti, ok? Inizia magari da quelli, inizia tu, non c'è indifferente Puoi iniziare da quelli che sono sfortunati a quelli fortunati, sta a te la scelta E una volta che avremo tipo concluso tutti i Lucky Block e avremo preso l'inventario Ci sarà una sfida in una delle arene che sono qui vicino Probabilmente anche qui sotto, non lo so, vedremo comunque Rimane il fatto che non puoi rompere nessun oggetto di questa mappa, ok? Quindi quei blocchi in diamanti che trovi lì non li puoi rompere Puoi rompere tutta la roba che esce dai Lucky Block Por cacca, ma perché non ascolti? Devo levarti il piccone, devo levarti Vuoi morire? Vuoi morire? Ok? Allora, siamo nel 9.8 comunque quindi dovresti... Siamo una merda, va bene Quindi direi di iniziare subito, subito e... Aspetta, non ho capito Come non ho capito? Ma è facile, te l'ho spiegato in tutto Aspetta, devo spaccare i blocchi Devi spaccare i Lucky Block Allora, devi piazzare i Lucky Block e spaccarli, va bene? Tutti quelli che hai... Vai dove vuoi, non mi interessa Puoi andare anche un po' lontano dallo spawn, magari così Questa strada è più bella, però vado io di qua Vabbè 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 Poi mi chiedete perché da soli sta meglio Eh, è ovvio perché... Quanto sei da solo? Eh, sono da solo infatti Ci sono gli zoni C'è un lag in oro Perché ci sono un sacco di mob, ci sono Infatti sta laggando un pochetto Minecraft Devo spostarmi anche in zona Eh, devo spostarmi da quella zona Perché magari ci sono i mob E tu quanto Ok, tipo qua? Ci sono dei cosi che squisciano Che fanno? Squisciano Allora, inizio per il primo Lucky Block Delle pecore Aspetta Aspetta Non mi interessa C'è il Mr. Rainbow Che tipo... È un po' in giro Non mi interessa Scegli tu dove andare Ok, una cesta con dentro Uh, materiale a gogo Buono Una golden apple Buona Questa lo userò contro di te Ah, per esempio Che lei morirà sicuramente subito Quindi gg Ma se io muoio posso rinascere Sì, puoi rinascere Però cerca di non morire Almeno possibilmente E dobbiamo comunque cercare di distruggere tutti i blocchi I inizi con quelli normali E poi... Dei cani! Ok, cani Aiutatemi Ok Perché se io non spacco i blocchi brutti No, devi spaccare tutti Dei spaccare Se no non va bene Uh Ah, se trovi dei altri Lucky Block Devi spaccare tutti i Lucky Block Ok Perché può capitare che ti escano dei Lucky Block In teoria A caso Ok, a random Quindi fai molta attenzione E se si sente qualcosa sottofondo da me Ragazzi, mi dispiace Ma mia madre decide sempre di passare la spiavole Per quando sto registrando Grazie mille, mamma Ok, iniziamo con quelli Veri Lucky Uh Buona questa Va bene, ci può stare Poi troviamo un paio di End Portal Che però lascio perché non ci servono E vediamo un po' Uh Dei libri Cioè, delle cose stupide Tu che sei trovato di decente? Hai dato qualcosa di bello? Dei fiori Wow Sì che sei potente Una spugna Wow GG Ho qualcosa di un po' più decente No No Sei morta? Non c'ho i blocchi per risalire Ah, potresti morire Allora Uh, Fishing Road Però è inutile Questo non mi interessa come cosa Perfetto Ok, adesso iniziamo con Oddio C'è tutti gli Allah Se sono caduta posso spaccare i blocchi Come sei caduta? Eh sì, sono caduta Che significa sono caduta? Non ti interessa Ah, no Clipper Merda Oh merda Non rispondere, non rispondere C'è uno zombie Ok Da quei cani No Merda Che culo mi sono salvato Creeper 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 Esplodi Ok Allora io sono andato ad avere gli ultimi tre lecchi blocchi Tu come stai messa invece Eh, aspetta No, no Merda Pezzi di merda No, no, no Questi sono fastidiosi A merda No, no, no Questi sono fastidiosi No Pezzi di merda No Ok, allora Tipo sono trovato qui In realtà devo farmi tipo set spawn Perché probabilmente non c'ho lo spawn qua Sì, io c'ho un gas in grata E allora io no Io ho avuto problemi logistici Con un bel po' Oh, Wither Porca merda Ok Adesso venga a ducere Ucciderti No Non voglio ancora uccidermi Devi aspettare che finisco di aprire tutti i blocchi C'è un Wither enorme Attenta che sta girando un Wither per la mappa Fai finta che non sia nessuno No, no Tieni con No, merda Adesso vengo a sgotermi Merda Merda Allora sono riuscito in qualche modo a resistere No, no Stai zitta Che morte Che morte Sono resistito Ok Ok C'ho l'ultima mela d'oro E poi c'è no Vabbè Non mi ucciderai mai nella mia vita Lo sai Allora Se vuoi Visto che effettivamente nessuno di noi due ha trovato Dei Dei blocchi di legna Puoi prendere dei blocchi di legna E farti l'armatura dagli alberi Solo dei blocchi di legna Vabbè E anche una spada se vuoi Se c'hai i blocchi Sì Ok Ah sei qua Come fai ad essere qua Non ti interessa Io vado a casa mia Dove sta il gas Perché mi perseguiti? Perché è mio amico E tu Io sono il tuo stalker Stalker Ok Va bene Ok Comunque ho fatto un brak In table Facciamo anche Un'armatura Ok Che culo C'è un ragno in casa Wow C'è una festa È una festa in casa tua Perfetto Vuoi partecipare No grazie Ciao ragno Vediamo quanto fa male questo Eh non fa male Questa però mi sarei più Ok E mi faccio Oh addirittura io c'ho l'armatura completa Lo sai Signor Gast Che fine hai fatto E se ne sarà desponata No lo sento io Lo sento Lo sento anch'io Ma non so dov'è Perché lì avevo lasciato una cosa Come se l'avevi lasciato esattamente lì Perché lasci le due cose lì Perché sono stupida Esatto Oh finalmente l'hai ammesso Ci voleva tanto per farlo però Eh eccolo Allora se vuoi io Esattamente No non mi rompe Questo è un 1.8 Posso inciantare quindi Con un livello No servono i lapisdrazzoli No mi servono due livelli Mi servono Devo uccidere qualcuno Mucche Cioè peccore devo uccidere Cioè hai i lapisdrazzoli Eh sì Ce li ho Non te li do amica È ovvio che non te li do Devo uccidere un po' di peccore Perché in realtà mi droppano Livelli Cioè esperienza Mi servono due livelli No No Non ti do l'ho niente Così mi pare Ma fai schifo Ok due livelli Posso inciantare Posso inciantare Aspetta faccio ne faccio anche 4 Così incianto E poi vado ad attaccare te Ok Quasi pronta per fare la battaglia finale Sei pronta? Senti ma gli occhi omega Che servono? Eh che ne so io Serviranno a qualcosa E tu giochi a minecraft Tu giochi a minecraft Tu non giochi a minecraft No Che era bello L'ho puttato Quando picchiavi la gente a random E moriva Adesso picchio il ghast Ok ho tre livelli Sei morta Basta io non muori Io sento ancora il wither È un po' pericolo Ah se sento il ghast che muore Poveretto L'hai ucciso Oh sta piangendo Che soddisfazione Uh buono Ok Allora io sono pronta Per la battaglia finale Quindi ci incontriamo Allo spawn E si attacca Ovviamente il primo che muore Perde E che dirti Buona fortuna Anche se so Lo so io dove lo spawn Il primo che perde Muore Non lo so Quindi sei pronta a combattere Io direi di sì Allora ci stiamo mettendo di fronte Allo ovviamente Vai lì vai Tai dietro Lontana Devi stare Allora sai come funzionano le mele dorate Invece di quelle non durate Tipo le golden apple Le mele d'oro Vedi che ce n'è due tipi Ce n'hai due La normale E quella tipo inciantata Più figa Bene Usa quella inciantata più figa Se vuoi so No non la uso Allora ci siamo ragazzi Pronti Combattimento pronto 3 2 1 Ora Ottimo Ci do un grifero Nando Ok Venite a te Buono Godo Godo Vai vai Attento Attento No Te la rompe la TNT Eh no Devi farla esplodere Non funziona così la TNT Ok Muori Tanto muori Ok Merda Aspetta Ti mangio la mele d'oro Solo perché sono figo Ok Ti do Ti do un po' di vantaggio Se vuoi Sai che potresti morire Da un'altra Quanto sei resistente Muori Ok Devi mangiare la prima La mele d'oro Però Va bene Facciamo che È tipo Uno su tre Va bene Ok Ma tu hai vinto E tu sei scarsa Va bene Prima partita per me Seconda partita per E magari E lo so Di tipo Ok Si riprova Si combatte Nuovo Ma sei Stronza Aspetta Non vale Stacco tanto Vinco comunque io A prescindere Guarda 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 che mangia la mele d'oro Guarda che mangia la mele d'oro Vai via Vai via Vai via Cosa Che sono più potenti Prendi più danni tu Lo sai vero Probabilmente morirai lo stesso Io ti direi scappa Se vuoi Guarda Che faccia divertente Non è stata È stata la cosa Usata vero No Stronza Che stronza Dove sei andato No Vieni qua Ti prendo con l'arco Ti prendo Non so Ho trovato l'arco Da tipo Un arciere Uno scheletro Dove stai Non scappare Oh è mo È mo È mo Come fa Non posso accendere No Non c'ho l'acciarino Maledizione Se avessi avuto l'acciarino Te l'avevi sparato brutalmente Aspetta che mangiare un'altra mella d'oro Che mi sono rimaste Tanto dove mi sono rimaste Ok No Vai addizione Aspetta Tu ne hai di più forse Forse riesci a vincere Se sopravvivi un po' di più di me Però potresti morire Oddio c'è un coso squittoso C'è un coso squittoso Si chiama slime Non coso squittoso Ma giusto Qui da più tempo Tu sei un po' più scarsa di me Tanto ci devo Dove stai Ma la vuoi smettere Di stare l'enderpello Ma è un po' schifo Cheating Cheating Dove sei Dove sei Sei sopra la casa No Dove sei finita Ma perché Dove diavile stai No raga Dove è finita Aspetta aspetta Forse ti ho visto No Non sei qua Dove sei Dai Non vale sta cosa di nascondino Non è nascondino sto gioco Affrontami da uomo a donna No affrontami da uomo a donna Non so manco io dove sei Ah qua 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 Ti ho visto Ti ho visto Tronza No Non posso Eh ma come faccio a uscire qua E vabbè Per ovvie ragioni Devo uscire in qualche modo Dove stai Dove stai Dove è andata Stai qua T'ho visto No sei sopra qua Stai Ah la smetti di nascondino Quante ce ne hai No non va bene sta cosa La devi smettere di far così Dai Oh Godo godo E ora dove vai Dove vai Ho un cuore Così impari Va bene Ok E quindi le due vittorie vanno a me Quindi ho vinto Mi dispiace Sei un po' scarsa Mi pare di giocare a minecraft Un prossimo futuro Ma sei un po' scarsa Ma io non ci gioco Ma io non ci gioco Cos'è sto coso? Aspetta tippami 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 Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Vieni ok Bene come ti è sembrata Questa prima partita Contro di me Non vuoi attaccarmi ancora Ti uccido comunque Ti uccido di nuovo Vieni di nuovo Così ti uccido di nuovo No basta Ora scappi Vedi c'è uno zombie No ok No Aspettila Non puoi mettere blocchi No Smetti Smettila Smettila Fatti prendere Quanti ne hai presi Di blocchi Finiti E ora Ok Non ce la fai Ah mi dispiace Ok Beh ragazzi Spero questo video Vi sia piaciuto Se volete Altri lucky battle Insieme a lei Che cercherà di vincere In qualche modo Perché mi butti roba Ad osso Perché la smetti Se non volete Altri lucky block Mettete un bel like Almeno non facciamo più Queste cose insieme a lei Perché non va bene In ogni caso Vi invito a lasciare un bel like Mi raccomando A prescindere da Cosa vuoi La smetti Perché mi stai mandando Roba inutile Ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Che è meglio Ciao ciao Al prossimo video Lo zombie vuole uccidere Anche creeper Grazie a tutti